Buongiorno a tutti, oggi voglio fare vedere e realizzare insieme con voi nuovo motivo, motivo 70, molto bello, nome non lo so perché mia amica non mica mi ha dato nome solo mi ha fatto vedere come fare. Ragazzi, niente, riuscite a fare schema e adesso io faccio voi vedere come chi qualcuno sa come fare questo schema fate forse io anche io imparo. Adesso io cerco un po' spiegare Ecco, questo motivo. Allora, queste tre maglie, noi con ago entriamo mezzo prima e seconda maglia, tiriamo fuori filo, facciamo un gettato, dopo prendiamo tutti tre, vuol dire dal tre facciamo tre. Parti di rovescio vanno tutti mali di rovescio, rovescio anche un gettato. Molto bello, questa è presentata mia amica, guardate che bellezza Guardate, questa parte di diritto, questa parte di rovescio Guardate, questa io tiro, ma come non tiro è così. Seconda me, secondo me, un po' Cochumilia come elastico americano. Solo elastico americano, io ho fatto, c'è questo video Facciamo motivo di genio dalla parte di rovescio, invece questo motivo facciamo solo dalla parte di diritto Dalla parte di rovescio vanno tutti, tutti di rovescio E questo motivo io presento voi, guardate bene E adesso cominciamo a fare insieme con voi Allora, primo giro Questo è il mio bordino, non mica centro con il nostro motivo Adesso guardate, adesso provo a avvicinare Per vedere meglio Guardate, noi abbiamo tre maglie Con l'ago entriamo mezzo prima e seconda Così Prendiamo filo Tiriamo Abbiamo tirato Prendiamo un gittato E adesso prima, seconda e terza Facciamo insieme Dall'indietro Modo di diritto E così Vuol dire Uno, due, tre Erano tre e tre rimasti Faccio vedere ancora Queste tre maglie Entriamo Mezzo prima e seconda Prendiamo Prendiamo Filo Facciamo un gittato E adesso prima, seconda e terza Facciamo insieme E dall'indietro E dall'indietro Prendiamo filo E tiriamo fuori Guardate Tre Ripetiamo Tre maglie Prima, seconda, terza Entriamo Mezzo prima e seconda Prendiamo Prendiamo filo Prendiamo filo Tiriamo In fianco Prendiamo Facciamo un gittato E adesso prima, seconda, terza Entriamo tutti tre insieme Prendiamo filo E tiriamo fuori E tutto Più semplice Motivo non può essere Ripeto Prima, seconda, terza Mezzo prima e seconda Entriamo Prendiamo Prendiamo filo Tiriamo Un gittato E adesso Prima, seconda e terza Facciamo insieme Mettiamo agua dentro Guardate E tiriamo fuori Guardate Io faccio molto lento Ragazze Molto lento Per Per fare Voi Vedere Anche i fili Io faccio Molto molto lento Perciò Regalate Già voi Di pressione Di filo Allora Ripetiamo Queste tre maglie Da questi tre Dobbiamo fare tre Entriamo Entriamo Prendiamo Un gittato E adesso Uno, due, tre Questi dobbiamo Prendere insieme E entriamo Dentro Tutti tre Maglie Entrati Faccio vedere Comportamento Indietro Prendo Filo E porto Fuori E questo momento Questi tre Si può liberare E tutto Ragazze Questo è Giro Uno Ci vediamo Nel giro No Questo è Giro Uno Ci vediamo Nel giro Due Ragazze Chiedo scusa Adesso io voglio fare voi vedere perché io ho fatto mia prove Come lei mi ha detto Entrare mezzo prima e seconda Io ho provato a fare dopo seconda maglia E fare questo movimento uguale Questi tre maglie Come io ho detto voi Faccio vedere Faccio vedere questa mia prova Provate anche voi Allora prima seconda terza Dopo seconda Mezzo seconda e terza Io entro Io entro Io entro Uguale come abbiamo fatto prima Tiro questa maglia Faccio un citato E questi tre E questi tre Facciamo insieme Guardate Ripeto Prima seconda terza Prima seconda Qui entra ago Mezzo seconda e terza Prendo Prendo filo Tiro fuori Un citato Un citato Un citato Entro Dentro tutti i tre maglie E faccio come diritto Ripeto ragazzo Questa è l'ultima Prima seconda e terza Prima seconda Qui io entro Prendo Prendo filo Tiro fuori Un citato E questi tre Una, due, tre Facciamo insieme Ecco Provate anche voi Provate anche voi Sempre c'è differenza ragazze Di lana Di mano Qualcuna Filo Tiene più stretta Qualcuna Più 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 libero Ragazze Bisogna provare Ogni mano Bisogna provare Ragazze Ci vediamo Nel giro due Parte di rovescio Giro due Parte di Di rovescio Guardate ragazze Come voi Prendete un po' Dito Indietro E sempre Voi scoperte Cosa c'è Malia Come rovescio Facciamo rovescio Facciamo rovescio Un citato E questa malia Quale abbiamo fatto Guardate È tutto Prova avvicinare ragazze Chiedo scusa Forse troppo Precisa Però Io vorrei Come voi Capite meglio Perché Quando Professionale Loro capiscono Una persona Quali nuove Poverete Possono avere Confusione Allora Questi tre Uno Due Tre Come voi Guardate Questa Questa maglia Copre Copre Questa Perché Questa Un citato Allora Noi con Dittino Tiriamo Indietro E vediamo Malia di rovescio Prima Facciamo Lei Rovescio E altre Due Uno Due Ragazzi Io ho fatto Molta lenta Molta Malia Molta lente Filme Molta lenti Per un motivo Perché Solo io Faccio Vedere Per capire Questo Concerto Guardiamo Questi tre Tirate Con Dittino Guardate Questa Malia Di rovescio E noi Facciamo Come Rovescio Un citato Rovescio E questa Malia Anche Rovescio Ancora Con Ditto Aprite E voi Scoperte Cosa Questa Malia Di Rovescio Fate Come Rovescio Un citato Un citato Rovescio Rovescio Questo Io Allargo Così Provo Allargare Con Questa Maniera Guardate Perché Quando Quando Noi Facciamo Lavoriamo Con Lano Quando Noi Laviamo E Dopo Nostre Malie Prendono Suo Posto Come Come Deve Essere Loro Prendono Sui Davere Come Loro Comodo E Dopo Senz'altro Noi Vediamo Quali Noi Abbiamo Bel Motivo Questa Parte Di Rovescio Ecco E Così Ecco Thank You Very Much Kelly Ragazzi Io Auguro Buon Salute Pacienza E Fortuna E Anche A Me Io Auguro Tutti Importante Salute Specialmente Adesso Nel Periodo Molto Molto Particolare Per Noi Per Tutti E Tutto La Ringrazio Buona Buona Giornata Western Noi 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 Noi